ciao 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 a tutti oggi apro con voi un pacchetto che mi è arrivato che mi è arrivato mi è arrivato perché ho comprato chiaramente non è che mi è arrivato così per grazia ricevuta dal sito idea bellezza io ho già fatto vari video illustrando le cosette acquistate su questo sito mi sono sempre trovata bene loro fanno sempre anche tanti regalini e andiamo a vedere cosa c'è prima però devo fare un saluto a una ragazza che si chiama girl bomb che mi ha chiesto appunto di essere salutata e io lo faccio molto volentieri perché me l'ha chiesto davvero così carinamente che ho voluto farlo il prima possibile quindi girl bomb magari mi farei sapere il tuo vero nome prima poi un caro saluto ciao cara che vado subito ad aprire il pacchettino abbiamo qui il sito come si chiama idea bellezza e ha veramente un sacco di marche anche molto prestigiose ma anche quelle più low cost che sinceramente sono quelle a cui mi rivolgo principalmente qua qui c'è dentro subito la bomba di consegna allora non ho comprato tantissime cose quindi sarò più che apita ho acquistato la crema mani della leo crema all'olio di argami che io avevo già acquistato e mi ero trovata non bene di più è veramente immediato l'assorbimento lascia le mani belle morbide non si ha più quella sensazione di secchezza che io non sopporto e in più la profumazione è fantastica davvero deliziosa poi ho comprato ho già visto gli omaggi ma li tengo per ultimi ho comprato ancora una qui aperto da sotto niente ora sono stata solo troppo manesca io come mio solito la colorazione per i capelli dell'excellence che io acquisto sempre perché secondo me è la migliore in assoluto ne ho provate varie per me quella che lascia il colore più naturale e questa è la seranza appunto poi ho comprato due correttori questi uno semplicissimo in stick della wet and wild questo è tutto sigillato non sto aprirlo ragazze dai la tonalità light per le mie famosissime occhiaie da panda ve ne parlo sempre vi avrò anche stancato e quest'altro che allora questo proprio marchio idea bellezza vedete di bellezza e correttore colato io spero che qualcuna di voi un po più esperta mi sappia spiegare cosa significa correttore colato perché io non lo so l'ho preso proprio per curiosità questo l'ho pagato 2 euro e 50 e anche l'altro no l'altro 2 euro e 99 mentre invece la crema mani 2 euro e 50 l'una però anche a meno anche a meno di un euro volte ma secondo me davvero questa è eccezionale poi ho comprato questo fondotinta in crema effetto seta dell'astra ecco qua che si presenta vediamo se riesco aprirlo senza staccarmi un'unghia come faccio il no si apre molto bene eccolo qua ecco qua qui il fondotinta in crema qui c'è la spugnetta il colore è un colore molto chiaro sembra quasi brillante ma non lo è sarà solo il colore ecco poi ha il coperchietto che si apre così per proteggerlo eccolo qua questo modo questa è la spugnetta fondotinta che io non uso tantissimo però quando ho l'occasione siccome ne ho due già aperti ma li ho aperti veramente da tantissimo tempo proprio perché per il fatto che lo uso molto poco poi lasciarlo aperto per tantissimo tempo perché il massimo mi sembra sia 12 mesi dei due che ho aperto e penso che sia molto molto più tempo che li ho lì e quindi preferisco gettarli per sicurezza e averne uno nuovo a disposizione poi per finire ho preso due confezioni di questo scrub corpo dei provenzali rimodellante sono praticamente tre dosi di scrub e qui dice che c'è anche un effetto rimodellante io ho poche speranze però a me interessa che faccia un buon effetto scrub perché adesso poi ci stiamo preparando per la bella stagione quindi ecco qua dice trattamento urto in quattro fasi preparare la pelle blando effetto caldo delicato poi ci vorrebbe un bel gel drenante è la crema corpo io inizio con lo scrub e poi via via a parte il fatto che la crema corpo la crema anticellulite o una crema elasticizzante io la uso sempre anche durante l'inverno perché bisogna cercare di mantenere quello che sia ragazze e poi per finire faccio vedere gli omaggi che mi hanno mandato sono stati particolarmente generosi signori di idea bellezza perché mi hanno mandato ben tre sono uguali sì ben tre flaconi qua di questo bagno schiuma di questo doccia shampoo for me sarà contento mio marito almeno uno per donne potevano mettere però no ma scherzo sono stati fin troppo generosi perché appunto tre flaconi non è si chiamano flaconi questi vabbè comunque giardino dei sensi for men legni mediterranei doccia shampoo con strati di bergamotto e mirto beh direi che non è male come come regalo perché sono comunque tre continuo a chiamarli flaconi ma so che non si chiamano flaconi non fa niente di 100 millilitri l'uno quindi sono 300 millilitri di prodotto voglio sentire il profumo perché a me capita ogni tanto di rubare uno dei bagni schiuma di mio marito perché mi piacciono molto le fragranze maschili buono molto fresco non è per niente penetrante come sono a volte tante fragranze dedicate ai signori uomini direi che è davvero buono quindi glielo ruberò senz'altro e con questo ho finito il mio piccolo haul di bellezza vi lascio il link nell'info box anche questo sito fa parte di quei siti che rientrano nella possibilità di avere un ritorno di soldini tramite il sito di cashback di cui vi avevo già parlato in passato io vi saluto tutti con un abbraccio un sorriso e al prossimo video ciao ciao